Poracci oggi è 26 marzo 2023 e tra meno di 24 ore gli eShop di Nintendo 3DS e Wii U chiuderanno per sempre. Nintendo smetterà di supportare gli store digitali di queste due piattaforme. A partire da domani, 27 marzo 2023, sarà impossibile effettuare nuovi acquisti o scaricare software gratuiti, mentre ci sarà ancora la possibilità di riscaricare i propri giochi, una funzione che rimarrà attiva per chissà ancora quanto. In questo video vi accompagnerò silenziosamente nelle ultime ore degli eShop di Wii U, faremo una bella ricognizione di tutte le sue pagine, delle sue funzioni e anche del catalogo che offriva gli utenti Nintendo. È un video che ha un puro scopo archivistico e che servirà a documentare un pezzo di storia Nintendo che a partire da domani non sarà più accessibile. Chissà, magari fra un mese, un anno o dieci anni, a qualcuno di voi verrà nostalgia di questa mitica quanto goffa console e questo video vi aiuterà a tornare indietro nel tempo. Come al solito, vi aspetto nei commenti per leggere quali sono i vostri ricordi legati a Wii U e 3DS. Buona visione! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.